Cambio tanto. Prima era il cambio, diciamo, il meglio perché la gente era migliore, avevano fatto tutta una casetta, insomma tutte stavano un po' meglio, se abbiamo mancato il paese, c'erano tutti i bagni, i bagni in casa e prima non c'erano niente. Prima c'erano niente, se sarà stato anche male, non c'erano tante cose, però ora si sta peggio di prima. Secondo me, a me manca tutto, non c'è più amicizie, non c'è più niente. Ognuno va per la sua strada, non si riconosce più uno con l'altro, ma per carità, a che ne so io con noi. Una volta eramo tutti amici, l'amore è d'accordo, si vegliava, si scherzava, si giocava. Ognuno va per la sua strada, sembra che tutti sono diavolati. Mi rendo conto il perché, specialmente sull'artigianato, meschiere come io ho fatto l'artigiano da calzolaio, non c'è più niente, perché San Casciano, paese, io parlo di qui, non c'è più né un fabbro, né un falegname, non c'è più nessun mestiere. Se si rompe un vetraio, si rompe un vetro di una finestra, deve prendere e andare chiusi. Il lato positivo che mi piace molto è il poter far conoscere la nostra cultura, le nostre tradizioni, che sono le cose che ci legano di più poi al territorio e alla nostra famiglia e alle altre persone, in realtà poi non solo del paese ma in tutta Italia. E appunto il condividere le esperienze, il condividere le nostre tradizioni è la cosa che mi spinge di più a continuare e nonostante insomma le difficoltà del trasferirsi in un borgo piccolo, e gli aspetti positivi per me sono di gralunga maggiore rispetto a me negativi. Grazie per la visione!